Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video riguardante agli europei di calcio 2020 Calcio e champagne, calcio e champagne Turchia-Galless, 0 a 1 per il Galless, attenzione qua La palla di nuovo al portiere del Galless Che adesso la prende con le mani, la prende con le mani, la prende con le mani Sto impazzì, oh son pirla Zabia è in culo invece Buragin Mats E adesso, mamma mia ragazzi, la Turchia è un passo dall'eliminazione Da questo europeo E sarebbe qualcosa di veramente clamoroso Attenzione qua il Galless, credo, è pressing E adesso il Galless dimostra che o si dopano, o si drogano, o si fanno di cocaina O con gli europei fanno cose eccezionali, cose ufficiali Attenzione qua la Turchia che attacca il pallone filtrante Vi dico ragazzi il mio pronostico, era 2 a 1 per il Galless Per la Turchia scusate Con primo gol del Galless e quello ci ha azzeccato Con gol di Bale che poi ragazzi si è mangiato un tiro dal rigore Ma state sintonizzati perché adesso probabilmente vado in live su Twitch Tutti i giorni in teoria mi trovate qua in live E adesso ragazzi continuiamo a concentrarci per questa partita Attenzione il pallone filtrante Alzano le mani i giocatori della Galless Attenzione a Turchia il tiro Burak Cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto il difensore? Ci mette la testa Tra le palla Oh, oh, rissa C'è una rissa Attenzione, attenzione Rissa C'è una rissa Tra i giocatori turchi e quelli gallesi Clamoroso Attenzione Mamma mia C'è la Loclus si mette in mezzo E scala ventrata uno per terra Cosa succede? Che cosa sta succedendo in questo finale? Clamoroso Clamoroso E adesso Burak il Vaz contro il numero 4 del Galless Si mette in mezzo De Miral Che non sta litigando Adesso Però il grande portiere Con tutto il rispetto Che va a stringere la mano Ai turchi Cercando di calmarli Lo sappiamo tutti I giocatori turchi Sempre molto Testa calda E adesso Qua si mette in mezzo Bale Si mette male Burak il Vaz A colloquio Con il giocatore del Galless Giallo 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 per Burak il Vaz E forse ci sono altri gialli Tre gialli in un attimo Quattro minuti Ne recupero Se è già andato il primo Si recupererà ovviamente il tutto Qua infatti Burak il Vaz Che la prende con un braccio E probabilmente Ho visto Non so se ho visto male Ah no Signamente ha un perinfallo Di Burak il Vaz Sul difensore E adesso E' nata la qualalite Burak il Vaz Cerca di scusarsi Però un po' incazzati I giocatori del Ah Ecco Ecco Brutto 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 La scara Ha entrato per terra Il giocatore del Galless Accettando le sue scuse Poi Burak il Vaz Che viene poi spinto Involontariamente In questo caso Da un giocatore del Galless Si incavola un po' E adesso Rissa Scattata Adesso si sta per riprendere Con il gioco E Quando mancano ormai Due minuti Ma probabilmente Si arriverà fino al 94 Al 96 Scusate Fino al 94 Previsto Giallo Anche per il numero 10 Accaccia alla Loglu Testa molto calda In questo finale Attenzione qua Il Galless Che mette fuori la palla Se è arrivata al fondo Per la squadra Turca Che effettuerebbe Un flop clamoroso Giallo per Ben Davis Ricordiamo se non sbaglio Terzino Del Tottenham Si va anche scusare Con Burak il Mas E adesso Tutta la Turchia Attenzione qua Il pallone del Turchi La ruba La ruba E spazza via Il Galless Attenzione qua Contropiede Ci può essere un contropiede Allarga il pallone Attenzione qua Uno contro uno Uno contro uno Contro Demiral Il pallone Lo lascia filtrare Ma cosa si è mangiato Wilson Mamma mia Clamoroso Questo finale Mi verrà un attacco cardiaco Mamma mia Che si è mangiato Wilson E intanto Sarà Ah no Non si è mangiato niente C'è stata la deviazione Sarà corner Tutti i giocatori gallesi dietro E tutti quelli turchi avanti Attacco e difesa totale Cabe intanto Vediamo un po' chi entra Esce il numero 20 Del Galless Entra il numero 3 Esce James Dello United Intanto qua Ancora un turco Che rompe le balle Entra invece Williams Anche esso Se non sbaglio Dello United Non so se lui Ma mi sa proprio di si Terzino sinistro Come Ben Davis Che probabilmente Potendo fare anche Il centrale difensivo Verrà spostato In quella posizione E adesso Batte corto il corner Bale Grande scarto Scarta molto bene Bale Il tiro parato Attenzione Qua il tiro La deviazione Sul tiro Di Burre E sarà ancora corner Lo va a battere Caref Bale Mamma mia Che emozioni In questo finale Bababia Mamma mia Ecco qua Eh braccio Forse c'è stato un braccio Però Ovviamente Attaccato Al corpo Di Soyuncu Ricordiamo Difensore centrale Turco Per l'appunto Del laser E adesso Batto corto Bale Schiatta vicino A bandierina Bale Il criro E fa 2 a 0 Galles 2 a 0 2 a 0 Galles E fa 2 a 0 Si abbracciano Tutti Perché questa E' una vittoria Che al 90% Garantisce Al Galles Di passare Il turno Almeno Come terze Classificate Il gol Che arriva Da parte di Roberts Che si abbraccia Con tutti i compagni E' un esempio Non riferire Questa gara Clamorosa Clamorosa Scusate Ho sentito un po' la voce Vicino Non ropetemi i coglioni Ecco qua L'assist Di Gareth Veil E si alza Tutta la pacchina Il tecnico Lì A sorpresa Perché ci doveva essere Giz Che però E' stato indagato Chiudiamo la volta Che se no se sente Ancora è più Mi saranno sentendo Voleare il barcone In ogni caso Questa partita E' buzionante Finisce qua Non so se ci vediamo Su Twitch Bella